Il sindaco annuncia la nuova dotazione dei vigili con mitragliette, giubbotti antiproiettili e poche ore dopo due donne vengono rapinate in paese. A Cade Solesino, il comune della bassa padovana, salito agli onori della cronaca nazionale per la scelta del suo primo cittadino di armare i vigili con un'arma semi-automatica molto simile a quella dei carabinieri. Non pensavo però che venisse riportato un messaggio negativo. Io penso che poter rendere il nostro paese uno dei più sicuri d'Italia e attuare delle azioni le quali tendono a tutelare e garantire la sicurezza delle donne, degli uomini e delle forze dell'ordine dovrebbe passare alla ribalta come una notizia positiva. Solesino, 7.000 abitanti appena infatti, entro il 2020 aspira a diventare il comune più sicuro d'Italia. Oltre alle nuove dotazioni per la polizia locale, il sindaco ha deciso infatti di installare 120 telecamere in ogni ingresso e uscita delle vie del paese. Fatto un semplice calcolo, dunque ci sarà un occhio elettronico ogni 60 residenti. Venerdì però due donne sono state scippate, entrambe avvicinate da un'auto grigia con a bordo due individui con il volto coperto da un passamontagna. Il sindaco dopo questi due episodi si dice ancora più convinto della scelta di dotare di mitra i vigili. Sicuramente vuole essere un deterrente nei confronti di chi vuole venire a delinquere nel nostro territorio, ma comunque oltre a questo mitra, diciamo, anche i giubbotti antiproiettili è un modo per tutelare le nostre forze dell'ordine. Pochi mesi fa in paese un'anziana ha subito una violenta rapina in casa e lo stesso sindaco è stato ripetutamente minacciato. Ho ricevuto delle minacce di stampo mafioso dopo pochi mesi che ero eletto sindaco, minacce di morte a me e la mia famiglia con proiettili all'interno. Le stesse minacce sono arrivate al comandante dei vigili, a un mio assessore, il quale è stato anche soggetto di un atto vandalico sulla propria automobile. È vergognoso che qualcuno abbia strumentalizzato la mia presa di posizione per garantire più sicurezza, quasi facendo passare che voglio mettere che il Solesino diventi come un Bronx. In realtà è il contrario, le azioni sono proprio state fatte e le sto portando avanti con la massima determinazione per far sì che il nostro paese diventi proprio un paese molto sicuro. In realtà è un paese che il nostro paese diventare per far sì che il nostro paese diventare più sicurezza. Grazie a tutti.